Era una vera romantica mia madre, quando il principe Carlo e Lady Diana si sono sposati ha dato una festa e ha offerto pasticcini e cremi. Era come la festa per il Super Bowl, ma per le mamme. Ha pianto per una settimana. Non conosco la storia del principe Carlo e Lady Diana. Oh, meglio non conoscerla, è una storia con la morale, un'ulteriore prova. Di che cosa? No, non si può vivere una favola. Io non sono molto brava con gli uomini. Può darsi che tu non abbia ancora trovato l'uomo giusto.